E prendiamo il nostro bastone per la scopa per fare i nostri obliqui. La cosa bella dell'obliquo è che è quello che ti tonifica la tua punta vita, che ti fa sì che la tua vita si restringe e che non sono fatti torsi affatto, hanno semplicemente bisogno di tanti 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 costanti, devi fare tanti per avere un risultato diciamo duratura e efficace, così in queste serie facciamo almeno un minuto di twist, però la cosa importante è di concentrare sulla forma, non ti fatichi ma è necessaria la buona forma per avere un bel risultato. Ricordate che i fianchi vengono leggermente in avanti, anche le spalle sono leggermente curve in avanti e tu devi pensare di contrari gli abdominali con tutta la tua forza, come se stessi appiccicando il tuo ombelico alla colonna vertebrale, ok? A questo vai anche a lavorare i core muscles che sono i muscoli trasversali, quelli che ti tirano dentro la pancia. Adesso facciamo anche una piccola variante, andiamo destra e sinistra, destra e sinistra giusto per passare un po' di tempo insieme e mentre chiacchieriamo insieme tu lo fai con me e vedrai che fra tre settimane e ti assicuro io Jill, se tu segui questo dividito tre settimane, almeno tre volte a settimana vedrai proprio il tuo punto di vita assottillare e se volete vi faccio anche una sfida, sai che cos'è la sfida? Prendete un centimetro e provate prima e dopo i dividiti la differenza, vedete come il vostro corpo si è proprio modellato con questi dividiti, questo allenamento in casa. E poi un'altra cosa, fate questo anche in palestra, dopo che hai fatto il tuo lavoro di aerobico, dopo hai fatto i pesi, prendete un bastone e per 5, 6, 7 minuti fai semplicemente o torsioni o piegamenti laterali. Grazie a tutti.